Un salvataggio in mezzo al mare, a largo del Gargano. E' quello compiuto domenica 20 agosto dagli uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a soccorrere con un volo in elicottero una passeggera a bordo della nave da crociera Enchantment of the Seas in navigazione nelle acque antistanti la costa pugliese. La donna, una turista di nazionalità statunitense, sarebbe stata accolta improvvisamente da un principio di arresto cardiaco mentre la nave si trovava a circa 22 miglia nautiche a nord della costa garganica. Scattata immediatamente la macchina dei soccorsi, la passeggera ha ricevuto assistenza da parte del personale di bordo. Contemporaneamente è stata inviata una richiesta di intervento alla sala operativa della Guardia Costiera di Pescara che ha fatto arrivare sul posto l'equipaggio del Nemo 11-12 della terza sezione elicotteri. Dopo una prima assistenza sanitaria tra il medico di bordo e il personale CIRM, il Centro Internazionale Radiomedico, che fornisce H24 e suggerimenti medici ai naviganti, l'equipaggio ha garantito il trasporto in sicurezza della donna presso l'ospedale di Chieti, dotato di piazzale di atterraggio agibile dove la paziente è stata infine ricoverata in terapia intensiva. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero stabili. Sempre nella giornata di domenica un'altra passeggera di nazionalità inglese a bordo della nave da crociera Costa Deliziosa, in navigazione a circa 30 miglia dalle coste del Gargano, è stata costretta ad interrompere il viaggio a causa di un malore. Ad intervenire per prestare soccorso alla donna è stata in questo caso la sala operativa della Guardia Costiera di Vieste che dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto ha inviato sul posto una motovedetta per organizzare le operazioni di trasbordo e il successivo trasporto presso l'ospedale della città garganica. Grazie per la visione!